amici di fano tv buonasera e bentrovati in questo approfondimento di studio ci occuperemo del 29esimo campionato mondiale di big game ovvero la pesca del tonno rosso seconda volta in italia prima volta in assoluto a pesaro dal 18 al 25 settembre organizzata dall'associazione sportiva club nautico di pesaro di cui abbiamo ospite il presidente francesco galeppi buonasera buonasera e grazie alla fipsas la federazione italiana pesca sportiva e attività subacque buonasera al presidente luigi soriani buonasera buonasera a tutti allora ci siamo in questo anno particolare si parte e grazie naturalmente alla fipsas allora la fipsas è mio onore essere qua naturalmente grazie a tutti volevo solo dirvi un po spiegarvi che cos'è la federazione prima di passare poi alla parte tecnica e al campionato del mondo che sicuramente è un grande fiore all'occhiello allora la fipsas è riconosciuta dal coni è una federazione che conta circa 200 mila tesserati in tutta italia a 3400 società 20 comitati regionali e 105 sezioni provinciali noi siamo una di queste quella di pesaro urbino allora è la quinta federazione dopo il calcio il volley il tennis e il basket diciamo come numero di tesserati quindi contiamo tanto anche all'interno del coni e anche soprattutto per i risultati sportivi per i quali siamo credo i primi proprio per tutto quello che portiamo a casa ogni anno tra medaglie e tutto il resto allora ci occupiamo di acque interne quindi la pesca in acque interne pesca anche ovviamente in acque marittime quella che tratteremo poi stasera abbiamo anche la pesca subacquea e anche la didattica subacquea oltre che il nuoto pinnato ma nella nostra regione non abbiamo società che seguono questa disciplina siamo un'associazione che è riconosciuta dal ministero dell'ambiente come associazione ambientale e quindi abbiamo anche un nutrito diciamo gruppo di guardie ittiche che fanno vigilanza sui nostri torrenti inoltre è una federazione che è anche riconosciuta dal CIP il comitato italiano paralimpico e quindi organizziamo per le persone diversamente abili una serie di iniziative questa è la federazione noi abbiamo la sede qui a fano in via chiaruccia se volete contattarci siamo felicissimi tips a pesaro punto it è il nostro sito inter sul quale poi troveranno tutte quante le informazioni ebbene insieme alla federazione ovviamente il club nautico che ha organizzato questo evento e quindi c'è una duplice soddisfazione lo possiamo dire prima di tutto perché avviene a pesaro secondo poi perché organizzare un evento di questa portata in tempi di restrizioni non è stata cosa semplice non è stata e non è cosa semplice siamo ovviamente grati alla federazione italiana che ci ha insegnato di questo importantissimo evento quindi prossima settimana dal 18 al 25 settembre inizierà il campionato del mondo di pesca d'altura specialità drifting partecipano nove nazioni per 16 equipaggi quindi siamo molto soddisfatti del riconoscimento che ci hanno che abbiamo che abbiamo avuto perché il covid ovviamente ha rallentato tutto anno scorso non ci sono svolte le manifestazioni o meno sono state ridottissime ci sono state solamente due gare in italia nella disciplina drifting e anche questa volta pesaro è stata premiata perché una delle due gare è stata svolta a pesaro ma veniamo a noi questa manifestazione importantissima bellissima la presentazione si svolgerà a pesaro in piazza del popolo poi seguirà agli giorni successivi tutti presso la nostra sede del club nautico pesaro questo è un periodo in cui l'adrenalina è a mille perché siete reduci tra l'altro di una di una vittoria nello scorso fine settimana ci siamo laureati campioni italiani per società di train ad altura quindi i nostri due equipaggi a ortona hanno vinto la manifestazione e qui ho portato lo scudetto lo scudetto che ci è stato dato dalla federazione e di questo siamo molto 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 contenti allora l'associazione sportiva club nautico da quanto tempo è nata e soprattutto che cosa fa questo lo diciamo per gli amici che ci seguono da casa che magari non la conoscono così in maniera approfondita il club nautico nasce nel 1949 quindi abbiamo 72 quasi 73 anni e si è sempre occupato dello sviluppo dell'attività marinare in primis pesca e vela ma nei soprattutto nei primi anni si erano stati ci sono svolte anche numerose manifestazioni di moto nautica quindi anche in quegli anni i primi anni la moto nautica le prime trasferte primi collegamenti croazia ex jugoslavia meglio ex jugoslavia italia si svolgevano proprio anzi molti soci portavano aiuti in quella che era l'ex jugoslavia di allora poi negli anni la nostra associazione si è sviluppata soprattutto per la pesca e la pesca al tonno diciamo che è iniziata nel fini anni 80 primi anni 90 e da lì è stato un crescendo quasi rossiniano bene e oggi siamo appunto qui pronti con l'adrenalina come dicevamo prima in circolo perché arriveranno insomma dei campioni dei campioni da 89 nazioni 99 nazioni e quindi insomma scenderanno non in campo ma in mare delle squadre importanti a proposito di questo direi a questo punto di parlarne proprio tecnicamente dell'aspetto proprio tecnico e di vedere un po come funziona la gara e il suo regolamento con noi anche il commissario tecnico mirko eusebi buonasera ben trovato allora con lei scendiamo proprio nel dettaglio tecnico e vediamo di capire come funziona questo drifting innanzitutto che cos'è il drifting per definizione è una pesca che è stata proprio nate cioè non è che state nata in adriatico nel 1980 85 è una pesca che si pratica con un pastorazione di questi toni giganti con la barca in scarroccio in deriva questo è proprio il concetto del drifting ok prenderanno parte abbiamo detto 16 equipaggi ed ogni equipaggio da quante persone composto e composta quattro atleti più un capitano ok e il tipo di imbarcazione necessaria ma si adottano delle imbarcazioni dai 7 8 9 metri ecco come misura come misura perché purtroppo per questo tipo di pesca ci porta a una certa distanza dalla costa certo e esistono delle operazioni preliminari prima dell'inizio ovvero e proprio della gara si c'è tutto l'attrezzatura tutti i vari preparativi tutti i vari terminali tutte le varie lenze è certo che c'è occupa parecchio tempo io so che c'è un regolamento particolare che va ovviamente rispettato e vorrei che lei precisasse che viene promosso un evento importante in concomitanza a questo già grande particolare l'evento si chiama no kill perché i tonni pescati poi vengono reggettati in mare giusto noi come federazione già diversi anni che adottiamo questo sistema che nel big game è chiamato catch a release e quindi tutti i pesci che nelle competizioni vengono allamati a sua volta vengono rilasciati vivi e si prende un punteggio per il pesce rilasciato vivo c'è un'asta di misurazione con tre diversi colori e secondo il colore che raggiunge il pesce si dà un punteggio però assolutamente vengono tutti rilasciati ok se ci fossero dei problemi per esempio in un componente dell'equipaggio sono previste delle sostituzioni tecnicamente parlando sì sì c'è chiaro che ci sono che speriamo di no sempre di no però è normale come qualsiasi squadra ripescaggi recuperi sono previsti dal regolamento snì perché ci sono due c'è un capitano un vice capitano che ti che fanno anche la riserva perché se nell'evenienza la seconda prima giornata abbiamo un problema dobbiamo intervenire noi come riserve e naturalmente ci sono dei provvedimenti disciplinari importanti per chi poi non si attiene un po alle alle regole insomma le normative allora come come si svolge allora succede che ci si ritrova e poi che cosa che cosa succede gli equipaggi si si posizionano ce lo racconti ma innanzitutto c'è un campo gara sì che viene delimitato da delle coordinate e tu devi operare pescare dentro questo campo gara è chiaro che dopo ci sono delle regole che devi rispettare quattro canne per imbarcazione non si possono tenere altre attrezzature il libraggio della lenza deve essere uguale per tutti la lunghezza del terminale deve essere 9 metri e non può superare tutte queste regole che tutti questi campioni che vengono a far parte e a comporre queste squadre lo sanno certo esiste poi un tempo limite insomma una durata sì la durata della gara è sette ore ok ok e volevo chiederle chi chi è il vincitore cioè con quale criterio poi insomma vengono decretati i vincitori a secondi piastamenti delle tre giornate una sommatoria di piastamenti delle tre giornate bene bene quindi dal 18 al 25 parte questo evento stratosferico la giornata di presentazione ufficiale però quale sarà lo vogliamo ricordare sarà domenica domenica 19 settembre alle ore 17 30 in piazza del popolo a pesaro c'è la presentazione ufficiale della manifestazione quindi adesso stiamo facendo tutte ancora tappe di avvicinamento a quella che sarà la giornata clou di presentazione ufficiale all'italia pesaro e ovviamente all'italia di questa importantissima manifestazione certo perché poi il 18 viene indicata come data in cui arriveranno tutti gli equipaggi vogliamo anche citare le nazioni di provenienza certamente le nazioni sono francia principato in monaco monte carlo spagna portogallo croazia slovenia germania e italia e messico messico e tra questi tra questi c'è già qualcuno che può essere diciamo il favorito che per antonomasia sono più forti di altri per questo tipo di pesca sia spagna che francia croazia la praticano quindi si è tutto allo stesso livello dopo la fortuna c'è il suo gioco il suo ruolo insomma allora lei anche capitano di squadre nazionali ci sono dei suggerimenti da dare a chi scenderà in mare e deciderà di affrontare questa avventura più che suggerimenti qui gioca molto l'esperienza e quindi se c'è conoscenza di un campo gara o di un tipo di pesca è chiaro che questi sono suggerimenti che devi dare l'importante anche in cui anche in questo sport se fai gruppo ai risultati se invece c'è delle teste calde fai fatica l'importante è quello c'è un limite di età per poter partecipare anzi poi gli atleti non abbiamo detto noi abbiamo quest'anno abbiamo su otto atleti due vengono dalla campagna uno viene dalla Liguria quattro dall'Emilia Romagna uno dalle Marche quindi ritrovarsi tutti insieme per poter fare squadra esatto quando si va in mezzo al mare le condizioni metamarina non è che sono sempre favorevoli quindi poi quattro giornate di seguito con ce ne sarei toste sette ore in mare beh quindi anche in condizioni di mare avverso ovviamente nel limite del possibile chiaramente però si pratica ugualmente la gara benissimo allora diamo le ultime coordinate e invitiamo naturalmente il pubblico a casa a partecipare domenica 19 abbiamo detto poi lunedì c'è la prima giornata di prova ufficiale in cui parteciperanno ovviamente tutti gli equipaggi martedì mercoledì e giovedì tutti in gara purtroppo non sarà visibile dalla 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 riva perché come detto il campo gara è posizionato a circa 25 miglia dalla costa quindi lontano però ovviamente saremo in contatto avremo grazie alle alle riprese e alle fotografie che avevamo fatte potremo mettere alla disposizione di tutti benissimo io ringrazio tutti i nostri ospiti ringrazio riccardo sora in regia il pubblico a casa dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento grazie a tutti